Siamo a Writer, scrivendo pre, addirittura già a WR questa installazione, ho il mitesame di applicazione, quindi premendo invio lancio immediatamente il Writer. Questo per chi lavora molto con la tastiera, è molto comodo perché non dovete staccare la mano destra per prendere il mouse e andare a cercare l'applicazione e poi lanciarla. Per un neofita è importante avere il menu, perché? Perché se non sai nemmeno che cosa hai installato, è installato molto da poco. Avere i menu divisi in categoria ti permette di esplorare il sistema e in maniera intuitiva imparare da quello che vedi rispetto a quello che hai installato nel computer. Ma chi ha automatizzato i propri processi, quindi sa già cosa vuole fare, la prima cosa che ti viene in mente è voglio lanciare questa applicazione. Quindi la prima cosa è pensare, il vostro cervello elabora, è il nome di quella applicazione, quindi con una semplice pressione di un tasto, poterlo scrivere, rende il rapporto con gli uniti. Quindi personalmente lo trovo molto molto comodo. Nel vecchio GNOME esisteva poi l'arte F2 che dava una finestra nel primo piano che permetteva di lanciare un comando, quindi era una forma ristretta del terminale, del terminale su una sola riga, è stata mantenuta chiaramente, quindi la stessa scorciatoia per chi lo usava su GOME 2 la trova anche in Unity. e quindi abbiamo la possibilità di esibire un comando. Qua abbiamo una serie di suggerimenti per cui, ad esempio, scrivendo il comando, appaiono subito suggerimenti di comandi noti, quello che farebbe la completamento, ma viene mostrato mentre si sta recitando il comando. Ora questa installazione immagino sia abbastanza fresca, in un sistema che ha già un po' di tempo di vita, viene mostrato anche i comandi più comuni, quindi se ci sono dei comandi, non so, uno sgruppatore, umandi di combinazione, così via, vengono mostrati sotto come, che sono quelli che sono i fascistoli, che chiaramente non è che sta inventato nulla. Un'altra cosa molto carina di Unity è che il tasto super, premendo una volta appare la dash e poi una volta arriva via, se lo si tiene premuto, vengono fuori questi numerini, quindi che cosa dice? Dice che il file manager che è in prima posizione, ecco risponde al numero 1, premendo quindi il tasto 1, si lancia il file manager. Siccome questi numeri sono posizionali, e quindi dopo un po' l'utente avrà deciso in che posizione lasciare le proprie icone, rimarranno fissi, quindi se il file manager 1 decide di lasciare una posizione 1, tutte le volte uno preme super 1, lancia un file manager, o meglio, se se ne vuole lanciare uno più, si usa lo shifter. Come lui, prima andrei a vi faccio vedere le barre di scorrimento, quindi non ho da dirvi moltissimo, se non che la barre di scorrimento ha le due freccettine che possono essere usate per i paginatori, quindi...